Condottiero, mecenate, umanista, capitano di ventura. Federico da Montefeltro era tutto questo e molto altro ancora. Come non celebrare perciò i 600 anni dalla sua nascita? Lo stanno facendo tutti quei territori che erano parte integrante del suo ducato e Fossombrone non poteva di certo essere da meno. Qui il lascito di Federico è davvero imponente. Fossombrone entra nel ducato di Urbino nel 1445 quando Federico l'acquista da Galeazzo Malatesta il Pavido e da quel momento in poi è una città amata da Federico e dal figlio di Guidubaldo che addirittura muore a Fossombrone. Sei gli appuntamenti in programma dal 5 febbraio al 2 aprile. La rassegna dal didascarico nome Federico e Fossombrone promossa dal Comune, dalla Regione Marche e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni di Federico 600 con la collaborazione di Confcommercio Marche Nord e dell'ufficio IAT si concentrerà soprattutto su due aspetti fondamentali, la musica e l'arte, nello specifico la scultura. Il programma prevede una riflessione sulla musica per liuto che era la musica tipica nelle corti del tardo 400 e del primo 500 e il liuto è stato uno strumento conosciuto, suonato e amato particolarmente anche da forze empronesi. Infatti un liutista forze empronese, Francesco Spinacino da Fossombrone, viene definito all'epoca l'orfeo del liuto, tanto che il suo concittadino Taviano Petrucci ne pubblica l'inte a volature. Quindi noi porteremo a Fossombrone il più grande virtuoso del liuto, Hopkinson Smith, che è un liutista americano che vive in Svizzera e il 24 di febbraio ci sarà un concerto di liuto di Hopkinson Smith in anteprima internazionale. L'altro aspetto invece che mettiamo a fuoco è il Magistero di Domenico Rosselli, uno scultore toscano che viene chiamato da Federico ad Urbino e realizza il Camino degli Angeli tra le cose più significative e Domenico Rosselli verrà anche a Fossombrone dove si stabilirà perché si sposerà a Fossombrone e lascerà opere importantissime. Noi ne parleremo in una conferenza e un percorso guidato alla scoperta delle opere di Domenico Rosselli. L'ultima parte del programma sarà invece legata ai simboli di Federico. Uno studioso di araldica, Antonio Conti, ci illustrerà le sue acquisizioni e scoperte più recenti dopo aver studiato anche i nostri soffitti del Palazzo Ducale. Come sempre le iniziative di questo calibro contribuiscono sì a fare cultura ma anche ad attrarre un buon numero di turisti. È un mezzo di promozione importantissimo soprattutto per le nostre strutture museali perché Federico, oltre ad essere la storia di Fossombrone, rappresenta le nostre strutture. Dalla prima innanzitutto quella che guarda dall'alto Fossombrone che è la Rocca e scendendo il Palazzo Ducale che è composto dal Museo archeologico e la Pinacoteca di Fossombrone. Palazzo che in tutto, appena entri, respiri l'area di Federico e quindi questo deve incentivare i turisti a venire qui a Fossombrone. Al di là delle celebrazioni, forse il più bel regalo di compleanno Federico l'ha ricevuto proprio dal comune di Fossombrone. Abbiamo acquistato quella parte di corte alta che ci mancava per collegare il Museo Civico con la Pinacoteca in modo tale che con un futuro progetto che dovremmo realizzare a breve e poi finanziare chiaramente l'intervento, riusciremo a dare oltre le uscite di sicurezza che mancavano ma soprattutto riusciremo a dare anche una maggiore continuità e una maggiore offerta turistica e di promozione al nostro territorio.